Ci sta andare a Barcellona, ci sta andare a Londra, però tipo a me le città europee mi hanno terribilmente annoiato. Se mi dicessero tu preferisci andare a Parigi o andare a Sarajevo? Madonna, Sarajevo tutta la via. A te preferisci proprio quando c'è lo stacco culturale. Sì, ma anche perché essendo posti meno considerati, il visitatore esterno viene anche, non so, secondo me accolto meglio, capito? Io mi sono sempre sentito super accolto in Albania, in Croazia non tanto, però lì sono chiaramente più abituati. Però tipo Albania, Kosovo, Macedonia del Nord, Romania, Moldavia, Bosnia, io vado fuori di testa. C'è un volo a 20 euro, andate e ritorno a Bergamo, io andrei. Però devo montare video, quindi sto a casa. E com'è il cibo lì in quei posti? Allora, ci sono dei posti che si mangia veramente da Dio, tipo, non so, in Moldavia io ho fatto di quelle mangiate incredibili, cioè si mangia troppo bene la cucina. Tipo la cosa più buona? Le sarmale, che sono queste foglie di, credo che siano foglie di verza o cavolo comunque, ripiene. Ah, mi hanno riso? Madonna. Però come le facevano lì, sono quelle che ho preferito. In Romania ho mangiato sempre benissimo, quando mangiavo tipico rumeno. Ho mangiato molto bene anche adesso in, ero a Pristina, quindi Kosovo, abbiamo fatto una bella cena. Cioè ci sono delle volte in cui mangi veramente molto bene. Magari se vai lì, che sei gluten free, sei vegan, è un po' complicato. Però se sei un nivolissimo, si trattano da Dio. Poi in Romania una volta mi ha rifilato il cervello fritto, quello avrei evitato. Hai scoperto dopo, mentre lo mangiavi, lo sapete. L'ho mangiato, avevo una sensazione strana, perché, sì, strano, e la Dio, così, è pazza. Ah, ok, il cervello, buono, spero di buca almeno. Anche questa cosa del cibo è proprio un tuo format alla fine, che fai vedere sempre cosa si mangia nei vari paesi. Cioè, qual è la cosa più assurda che ti è capitato di mangiare? Io per esempio mi ricordo di aver mangiato le meduse, che per me era una cosa assurda. Ma no, ma poi è stranissimo. Sai che in Italia comunque si mangia, no? Sì, anche Paolo Sarpi, volendo poi mangiare la medusa. Sì, sì, sì. Sì, non sono fan. E io lo mangia in Australia, mi ricordo questa cosa. Spiac, totale, la medusa. Poi tutto va in base al condimento, ma la sensazione mi è andata proprio una... Gelatina. La gelatina della Simental. Sì, che è natale. Sì, bravo, è vero. Che tra l'altro non ho mai mangiato la Simental, perché ho visto la gelatina, e la gelatina è una delle cose che proprio non riesco a concepire a livello alimentare. Però a volte mi rifilano del cibo che è anche peggio, tipo quando ero con Barboscura in Tanzania, hanno macellato un capretto, l'hanno cucinato il tipico capretto Masai, e poi Leinana, capito, che tagliava e mi serviva con le sue belle manone un pezzo di fegato che poi ho scoperto essere in bocca, crudo. E lì è stato brutto perché, vabbè, sensazione terribile perché, madonna, schifo. Sapore tipo di ferro. Eh, sì, non era buono, ma soprattutto poi la paura di aver contratto qualcosa di brutto. Perché dici il fegato crudo, se adesso ho preso l'epatite, è finita la pacchia. Bruttino, eh?